Un'azienda catanese che realizza sistemi di distribuzione e filtrazione dell'acqua e siamo con il suo amministratore Salvo Camarota. Buongiorno Salvo e benvenuto dinanzi agli schermi di Oreca TV. Buon venuto a tutti, grazie. Allora, alle nostre spalle e intorno a noi vediamo tantissime belle cose. Da dove iniziamo? Iniziamo da tanto tempo fa, visto che sono nel settore da più di 30 anni. Prima ho lavorato in OCS nel campo del caffè per tantissimi anni. Adesso da circa 6-7 anni ho visto che il mondo dell'acqua poteva dare più soddisfazione e ho iniziato questo progetto, questa piccola sfida e pian pianino sto cercando di realizzare quelli che sono stati i miei sogni e quindi abbiamo creato questa nuova linea di depuratori che sono stati pensati appositamente per la famiglia, per le aziende, per gli uffici e hanno l'obiettivo di essere qualcosa di particolare, qualcosa di nicchia che possa abbellire il luogo sia di lavoro che soprattutto di abitazione dove abitiamo. Sono estremamente piccoli, maneggevoli, pratici e funzionali. Quello alle nostre spalle per esempio è un erogatore, depuratore che è profondo, mi dicevi, poco più di 8 centimetri. Sì, è precisamente 88 millimetri e nasce per essere a quadro, cioè montato nel muro di caso, in un'azienda, in un bar e ha lo scopo di abbellire il luogo dove è posizionato e ridurre gli spazi a volte di ingombro e soprattutto rendere la cosa piacevole che è quello di bere un bicchiere d'acqua in base a quello che si piace fare, cioè montare all'interno ciò che vuole microfiltrazione, l'ultra, l'osmosi, la nanofiltrazione, tutto dipende da chi vuole utilizzare questa macchina. Salvo, però non solo sistemi per uso domestico, anzi soprattutto per il fuoricasa. Sì, infatti sono delle macchine studiate appositamente anche per la ristorazione, sia per gli uffici e ci stiamo proiettando molto a quelli che sono i bisogni reali e più immediati che ormai stiamo vedendo evolversi nel corso del tempo e quindi abbiamo creato questi progetti molto compatti, piccolini, belli da vedere ma che si possono utilizzare in diversi campi, ad esempio anche negli uffici in questo caso. E allora, per chiunque si trovi dall'altra parte e desideri avere maggiori informazioni su questi gioielli tecnologici, io li chiamo appunto gioielli tecnologici perché sono ben fatti anche internamente, molto ben pensati e soprattutto belli da vedere. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere senza alcun impegno per chiedere maggiori informazioni? Allora abbiamo fatto un nuovo sito internet, l'abbiamo utilizzato in maniera molto semplice intuitivo che è saviga.it. All'interno del sito troverete tutte le informazioni utili ma se eventualmente vuole qualcuno mandarmi un'email è saviga.email.it Grazie, io ne approfitto a questo punto visto che stiamo iniziando davvero a sudare correndo e cercando di soddisfare le esigenze di informazione di tutti quelli che sono presenti a questo Aquafair 2019, ne approfitto per fermarmi un secondo e abbeverarmi con dell'acqua erogata dai tuoi bellissimi distributori. Grazie Salvo! Grazie a te, grazie a tutti voi e speriamo di potervi accontentare.